Un mondo di solidarietà, giunta la sua ottava edizione, progetto sociale benefico in favore di bambini diversamente abili in Uganda, precisamente a Gulu. Abbiamo intervistato il parterre, la sua madrina, i suoi conduttori e gli artisti convenuti. Il gran gala della città di Napoli è pronto. Via alle immagini. Maria Grazia ci siamo lasciati con l'opera prima a Sorrento, di nome e cognomi, per il giornalista Beppe Fava, in onore della verità e contro anche il potere. Ci ritroviamo qua di nuovo in terra campana, che oramai ti ha adottata per questa causa nobile. Tu da sempre una coscienza sociale, tu hai vista a Miami, a Los Angeles Drive, con quel baso carino, gentile, con la tua collega Rita Rusic, prevenzione di umori col seno. Fino ad aggiungere questa qua a favore del Uganda per creare questo villaggio. Guarda, devi sempre cercare di aiutare chi ha più bisogno. Io come dicevo prima non faccio differenza da dove vengono gli aiuti. Cerco nel mio piccolo di fare tutto il possibile perché non puoi mai sapere nella vita. C'è sempre chi aspetta soltanto un piccolo tuo aiuto perché cambi la vita. Si parlava di una tua probabile partecipazione a Ballando con le stelle 11. Non è vero, non è assolutamente vero, no. Prima si parlava di... Sono una ballerina e ne tantomeno ci ho mai sperato, di conseguenza è un mio sogno, magari un giorno, non adesso. Un saluto alla trasmissione che si chiama I Protagonisti, col tuo stile. Tanti baci a tutti gli amici di I Protagonisti. Da Maria Grazia Cuscinotta. Ciao. Grazie. Gentili delle spettature, di I Protagonisti, in occasione del progetto sociale Un Mondo di Solidarietà che praticamente è dedito alla ristrutturazione di un villaggio in Uganda. Abbiamo incontrato nel parterre due ballerini che loro sono i campani. Vincenzo Durevole, ciao innanzitutto. Ciao, ciao ragazzi. Giovanna Danna. Ciao, buonasera, ciao. Allora Vincenzo, quanto è importante prestare il proprio volto e la propria arte per cause così nobili? Com'è che è un led di stasera? Guardi, è assolutamente una cosa bellissima. A me è il secondo anno consecutivo che io partecipo a questo evento, Un Mondo di Solidarietà. Come dicevo prima, fa sempre piacere, soprattutto quando è la città di Napoli, a muoversi per questi motivi e per una serata di solidarietà. Quindi noi ci saremo sempre, per quanto si tratta di solidarietà. Invece Giovanna diamo anche un po' di sfondo culturale anche a lei, no? Il tuo pensiero ad essere vicino a chi soprattutto ne ha bisogno. Quest'altro parliamo anche di bambini diversamente abili. E' importantissimo, anzi penso che se ne debba fare molto di più, se ne debba parlare di più, quindi aiutiamo a queste persone a fare di più e noi ci prestiamo per fare queste cose, anzi siamo contentissimi. E poi Vincenzo, so di una duplice veste, so che sei anche coreografo stasera. Sì, questa sera siamo anche coreografi, abbiamo curato un corpo di ballo per le coreografie di questa sera e una doppia felicità per questa sera perché diciamo è tra virgolette un debutto da noi coreografi per uno spettacolo così importante. E' così nazionale. Eppure, seguendo un po' la vostra storia, finalmente sei deciso, eh? Dopo nove anni? Finalmente, finalmente. E' ancora... Stai ancora a tribolato? No, no, no. E' deciso, è deciso perché l'ha detto da Barbara, quindi lo dobbiamo... Però ci vuole ancora un pochino di tempo, tra i preparativi e robe varie ci vuole un po' di tempo. Però rimanete comunque in collegamento con i nostri social perché a breve ci sarà la notizia della data precisa. Vincenzi, invece l'Accademia di Danza che tu ti eri prefissata ad aprire a Roma? No, in realtà noi quest'anno a settembre abbiamo aperto l'Accademia qui a Napoli. Abbiamo cambiato, diciamo... Sede. Sì, perché l'anno scorso mi hai detto Roma, eh? No, abbiamo preferito Napoli perché, lo spiegavo pure pochi giorni fa, perché comunque bisogna lavorare a Napoli, perché siamo napolitani e dobbiamo aiutare comunque i giovani a... Cioè, dobbiamo aiutare i giovani che possono scegliere cosa fare, che c'è un'Accademia di Danza importante, possono fare quello che abbiamo fatto noi, sognare e far sognare. Quello che piace di te è che sei stato un precursore, penso ai balli caraibici, no? Hai introdotto questa vera novità all'interno del Palinzese e oggi si segue questa linea, no? Sì, in realtà io correggo la cosa perché non è che capita solo a te, capita spesso... Noi facciamo un latinoamericano che è diverso da caraibici, però ci sta un legame con i caraibici. Sì, abbiamo introdotto noi questa novità all'interno dei amici, continua ancora a... Ci sta anche quest'anno ancora questa disciplina, quindi noi siamo felici di... Vorrei portare in alto la nostra disciplina, ovviamente, sì. Quindi dietro alla vostra espressività, alla vostra armonia interiore, che vi auguro finalmente si decide con questa data, no? A passo di danza come li saluteresti i nostri telespettatori che si chiamano i protagonisti? A voi protagonisti? A voi protagonisti? Buon parla! Su! Un bacio, ciao! Ciao! Grazie ragazzi! E' tonto! E' tonto! E' tonto! E' tonto! No, la caduta non è una finta, è caduta veramente! Ma il primo problema è riciccare i libri un po'. E' parte la stazione centrale, voglio dire. Nell'ultimo periodo... Azzurro, c'è quede sulla stazione situazione? Un po' in uno! Azzurro, c'è una squadra, ha capito! Un po' in uno! Azzurro, c'è un po' in una... ...e' un po' in uno! Azzurro! E' un po' in uno! Ecco la storia! Per la stazione situazione! E' molto più il nostro sottile! Allora non è che nessuno si prenda tutti i nostri due-midi e ci sono in più i nostri. grazie